Benvenuti in Paladins Porca miseria, era da un po' che volevo provarlo, non l'avevo neanche provato per i fatti miei ancora Ci ho fatto giusto una partitina stamattina Ed è ancora uno dei giochi più giocati su Steam Se volete anche voi provare Paladins free to play trovate un link in descrizione A me han detto che gli eroi sono molto simili a quelli di Overwatch Ma diamoci magari un'occhiata approfondita Ah ho 5 loot chest, posso fare gli opening pack finalmente sul canale? Martina, possiamo fare gli opening pack, stasera si mangia Pronto, non si vede l'anteprima Open chest, 3 carte, ah già che c'ha il sistema di carte Praticamente in sostituzione agli classici oggetti alla League of Legends ci sono delle carte Che ti permettono di potenziarti da quel che ho letto Direi di partire facendoci una casual con altri giocatori Ah subito l'ha trovata, ok Ehm, hanno già preso un flank, un damage, un frontline, quindi un support Oh merda, proprio io il support Vado full guardiani della galassia Eh ma quanta customizzazione che c'è Ah non ho altri load out di carte Dovrei crearmi load out di carte Questo è il negozio, puoi scegliere tra quattro categorie Difesa, utilità, posso tradurlo così Curare e offesa Sto traducendo meglio di Google Translate Siccome sono un curatore direi di metterci qualcosa da healer Vabbè metto quello del cooldown Arrivo amici! Uscendo dalla base si può usare la mount, non so se riuscite a vederla Per arrivare prima, ma appena attacchi Io mi sa che non devo attaccare Porca puttana, io non so le mie abilità però Se premo F Cosa ho fatto? Però ho ucciso qualcuno La Q cura Non so, perché Dove trovo scritte le cose Tab? No? Aspetta Allora ho lanciato una bomba Porca puttana Ho colpito qualcuno Ma posso andare dove voglio? Bellissimo, e via così Questa modalità è stranissima Praticamente devi conquistare un punto Però una volta conquistato Sblocca il payload della squadra che l'ha conquistato E poi lo devi spingere Praticamente una fusione di una modalità conquista normale Vieni qua L'ho presa Ok, doppia Così, easy Ma sono deficiente Io le tiro le asce Ero convinto che colpisse normalmente Hanno tirato un'altra bomba Vediamo, vedi quello la a metà vita Se io premo Q L'ho curato Ok, ok Cura confermata Sono abbastanza convinto Che siano bot gli altri Siamo in una situazione di stallo completo Non riusciamo a spingere Comunque A livello di feeling di gioco E' molto più uno sparatutto arena Se... Se può avere del senso quello che sto dicendo E' molto più sparatutto arena che MOBA Diciamo così Però non so, si muovono molto strani A parte che ti ho ucciso Via tutti, via tutti Ho sbloccato la ulti Mo vai a capire che cazzo fa E' diventato un fiore Ok, io io Oio E mi curo anch'io Spero non sia troppo confusionario il video Ma ovviamente tagliare questo genere di giochi E' sempre un terno all'otto Via qua, uso la mia ulti E abbiamo perso perché non abbiamo spinto il payload Porca troia Ma possibile che non ci sia qualcosa per curare gli altri? Ma se... ma solo per curare me eh? Tipo c'è il lifesteal che è ottimo però a me non serve Mi sono ridotto il danno dagli attacchi diretti del 20% Sperando faccia qualcosa Quanta gente Quanta Serve cura? Serve cura Sono in una streak di 18 uccisioni E la madonna Per essere un support voglio dire Mi nascondo lì E' più action Più immediato Non so... Più free to play Aiuto Ci questi qua sono deficienti Credo di... Credo di averla uccisa mentre spawnava Ti curo Vediamo se t'acchiappo Vediamo se t'acchiappo No me l'ha rubata Dai stavo facendo la provata Presa Me butto l'ulti che tanto mi sa che stiamo arrivando Ma dai si è fermato a un millimetro Andata? Sì, push successful Riduco ancora di più il cooldown Quanti me ne mancano? 400 Dammi un tasto per l'amor di dio Abbiamo vinto Abbiamo vinto mentre ero nelle opzioni No, sono arrivato al primo mastery di Groover È livello 4 come giocatore Ok Customize Qua per customizzare Eeeh cos'è Fast and Furious? C'è un'altra pagina? Putana Ma vaffanculo Quindi queste carte basic sono tutte passive Non le devo comprare Sono passive del mio personaggio Ah Hai capito Facciamo un'altra partita va Sperando di prendere qualcuno che fa danno Non fare lo stronzo eh mannaggia Prendo al volo qualcuno che fa danno Tiè Drogots Cal Drogots E continuo a non capire Se giochiamo contro i bot perché hanno dei nomi Carisma Venerable Eradicate Sono nomi Un po' troppo perfetti Infatti noi abbiamo Ken50 Biokiller Col 3 è scritto No? XXDMIA E appunto Dicevo Con lui che fa danno direi di andare Di danno Ah i tuoi colpi Fanno il 5% in più di danno Eh ok Cosa sparo io? Missili Ok Grazie mille Le mappe devo dire che non sono dettagliatissime Eeeh cos'è l'apocalisse Ok ho tirato una palla Di muco Magmatico Da quel che ho visto Ma stronza Ho il jetpack E sparo missili Quindi cerco di non fare nessuna Similitudine con un altro personaggio Di un altro gioco Ah bellissimo se io la colpi Questo mi ricorda Unreal Tournament Lancio questa e poi la sparo così Fa un'esplosione enorme Esattamente come era l'arma in Unreal Tournament Mentre Q immagino che faccia Tre colpi di fila Pensavo una cosa diversa Guarda che roba Aia mi son colpito sui calcagni Sto facendo i culissimi con questo personaggio Contro i bot Serve il cavallo quando hai un jetpack per volare Ho l'ultimate Che è un pugno che cade giù Che palle che non capisco dall'immagine che cazzo fa La provo La provo Credo di essermi lanciato verso di loro Merda Oh merda Eeeh che strage E via così la tripla Ma lei continua a morire nei modi più brutali Aia Dove è finita la signorina? E via così Si vola Ma sai che ci stavo pensando Lui assomiglia un sacco ad un personaggio di Smite E poi mi son reso conto che Questo gioco è sviluppato dall'Ires Dagli stessi di Smite Sono scemo Dove è finito? Ma dai Preso L'ho preso? Immortal addirittura? E abbiamo vinto Yeah Sono una streak di 21 uccisioni Mizzica spero di non fare come Undertaker Cosa? Ma volevo saltare Ah vabbè non importa Non importa abbiamo vinto Livello 5 di personaggio e mi ha dato una chest Che continua a non farmi vedere purtroppo Ma apriamola E quindi queste sono tutte passive Ok Gioca in battaglie contro altri giocatori Ma il dubbio mi viene Mannaggia la pupazza Però adesso mi fa scegliere che tipo di partita Vuoi vedere che dovevo arrivare a livello 5 di personaggio? Qualcosa per fare flank Lui Buck Ma scusa è tipo Kratos però col fucile a bomba Ah ecco adesso ci sono i giocatori Kinzi 97 Harambe the king Avete rotto i coglioni con sto meme Basta Adesso si che è diventato Quake 3 E infatti già Porca troia Si vede la differenza Ci rimani? Che dici? Eh magari eh Ah si c'è decisamente più soddisfazione uccidere i giocatori che boss No dai Muoric Guarda piuttosto mi faccio uccidere ma almeno muori Io voglio quel maledettissimo soldato Do chi è? Ok perfetto Vado via Non me ne frega niente Molto Molto proporzionato questo eroe Ok ne ho ucciso uno però Sono in fin di vita Mi sono salvato per il buco di culo L'ho visto partire L'ho visto tornare È stato un bel viaggio La mia ulti cosa fa? Che cos'è questa immagine qui? Ok Mi potenzia il danno e basta? Ma va bene E ti vengo a uccidere stronza Ce l'ho fatta Si 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 spara spara rambe Ah mi ha ucciso Che figura di merda Ci sono due cose interessanti O mi faccio il life steal che è ottimo con lui perché prendo un sacco di danno Oppure ogni volta che uccido qualcuno mi rigenera 300 di vita Il problema è che Ho fatto kill ma non così tanto e quindi andrei di life steal È un buon eroe ma non così tanto questo qui Cioè non ha nessuna Aia Non ha nessuna abilità ad area Che sono strautili Oh 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 No 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 Ma cazzo l'ho anche visto E tu sei morta Per dire eh Tu sei morto Per dire eh Ma come è contento il nostro tank Vado di ulti faccio strada faccio strada Uno è andato dove l'altro E due sono andati doppia Sono diventato un pollo Sono diventato un pollo Mi suonano il citofono aspetta Sì Proprio adesso 30 secondi Merda ma io devo andare ad aprire Abbiamo vinto Va bene Quindi questo era Paladins A me piacerebbe farci un altro videino sai Ha un feeling completamente diverso rispetto a Overwatch È molto più action Cioè non saprei proprio spiegarlo Dovreste provarlo con mano Come ho detto all'inizio è molto più spostato verso Quake 3 È rispetto a Team Fortress Ma comunque Un buon primo impatto cazzo Grazie mille per avermi seguito E ci vediamo ad un prossimo video Oh no non posso più guadagnare con YouTube